A3 Defense Evolution Sensitive Skin è un pack creato per le pelli più delicate, sensibili e reattive è composto da tre prodotti fondamentali per la cura e il benessere della nostra pelle in tutti e tre i prodotti troviamo dei principi attivi che vanno a proteggere, lenire e decongestionare in profondità la pelle e in più regalano un effetto anti-age abbiamo il Seroprofessionale Defense & Comfort è un kit che contiene 10 bustine monodose che vanno applicate tutte una sera prima della crema la crema malprofessionale Defense & Comfort in formato max da 150 ml va applicata dopo del siero ogni sera con un bel massaggio fatto assorbire in più va applicata anche di mattina per donare più protezione alla pelle e è anche ottima come base per il trucco in più abbiamo la maschera professionale Defense & Comfort all'interno del kit troviamo 5 bustine monodose con una maschera già intagliata e già imbibita di siero che va applicata sul viso per circa 15 o 20 minuti per poi asportarla direttamente e gettare via il telo prima della maschera consiglio di applicare il siero la maschera e poi la crema la maschera e poi la crema Grazie.